Buongiorno vi presentiamo i due tagliassiepi a batteria della serie mix Yamato, il primo è semplice con un'unica batteria da 20 volt, lo vediamo subito, sempre con la protezione, miniatura girevole fino a 90 gradi, le batterie segnalano sempre il grado di carica, adesso passiamo all'altro modello, con doppio inserimento di batteria, quindi una e due, ovviamente questo per lavori più intensivi, perché sviluppa 40 volt e questo ha anche un altro rumore, taglia in maniera molto più importante, sempre la rotazione, fino a 90 gradi, quindi riesco a lavorare anche dritto in piedi. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima presentazione.